Ehi! Come stai? Svegliati? Dormiglione? Sei là? Ma come ci sono? Sono in nota. Forse se ti do un bacio ti svegli. Lo so che hai tanto sonno ma oggi ci sono veramente tante cose da fare. E devi aiutarmi. Non posso spiegare tutte cose da sola. Io credo proprio che un bacio ti aiuterà. Non funziona. È solo il pretesto perché ne vuoi un'altra. Svegliati su. Sono le sette del mattino. E tu perché hai fatto tardi ieri? Sapevi che oggi avevamo tante cose da spiegare? Allora. Sì. Va bene. Allora ti ripresco un pochino la memoria per ricordarti cosa c'è da fare oggi. Allora per prima cosa abbiamo la colazione. Sì. Poi come ramen? Non puoi mangiare ramen a colazione? Abbiamo la colazione. Abbiamo dei... Io mangerò una ciottola di riso con un po' di soppa di miso e un po' di... Un po' di uova sode. Per mettermi in forza. Dobbiamo avercele per l'allenamento successivo. Poi ti ricordo che dopo la colazione passiamo a farci la doccia. Sì. Nel senso io la faccio dopo la colazione. Tu? Non so quando la vuoi fare. Dopo la doccia ed essere belle puliti. si deve fare lo stretching. Perché poi ci aspetta un allenamento intenso. Dopo l'allenamento una breve pausa. e poi di nuovo ancora allenamento perché fra cinque giorni ti ricordo che abbiamo una missione. Dai non fare il belandrone. Svegliati. Anzi alzati perché sei ormai abbastanza sveglio. Come fai ad avere gli occhi ancora così assonnati dopo circa 12 ore che dormi? Ieri eri talmente stanco che ti sei infilato nel futon e praticamente ti sei svegliato il giorno dopo. Ti invidio sai. Vorrei avere il sonno profondo che hai tuo. No, io non riesco nel senso ovviamente quando sono stanca stanca sì però a volte mi capita di essere di avere un po' di insonnia di essere un po' troppo vigile e quindi non riesco a dormire. Comunque dai non senti l'odore della colazione. Non vuoi svegliarti. va bene, ti concedo ancora qualche minuto in più, ti coccolo un po' e poi promettimi che andrai a fare colazione o la doccia e poi la colazione viceversa. poi inizierai lo stretching e poi ti preparerai per l'allenamento. Ma certo che possiamo allenarci insieme. No, in realtà non fa freddo oggi, no? No, non c'è nemmeno caldo però si sta bene. Grazie. Ti accarezza un po' i capelli ok? i capelli tutti scombinati. Ma cosa fai durante la notte? Rotti con qualcuno? Come fai? No, io solitamente ho un suono abbastanza leggero. Non tormentato come il tuo. Questi giuffi mettiamoli di qua perché sono un po' ribelli, un pochino come il proprietario. Ok. li ho sistemati per quello che ho potuto fare anche se sono certa che ti si scombineranno dopo 5 secondi. Allora. andiamo qua. Ti porto un po' d'acqua? No? Non hai sete? Dovresti bere un po' di più? Sai che fa bene? Ah si? In che parte? Le spalle? Non è che è una scusa perché non ti vuoi alzare? Ieri le hai stirate un po'? Forse perché non hai fatto abbastanza stretching? Per quello noi facciamo stretching proprio perché potremmo farci male se è appunto nell'allenamento. un massaggio? Un massaggio? Furbetto? Vabbè dai. Giusto perché me lo chiedi con quegli occhietti un massaggio. Posso anche fartelo. Ti fa male la spalla destra? La spalla sinistra? Fa tutte e due? Ok. Va bene questa pressione? Un po' più forte, ok? Sì, qua sento che i muscoli sono un po' accavallati. Che cosa avrai mai fatto di movimento per avere i muscoli così tesi? Eppure ci hai dormito su, non so immaginare come ti sentivi ieri. Cosa ti dico sempre a riguardo? No, quando ti fa male un muscolo devi fermarti. Non devi continuare come il solito tuo, sennò questo è quello che succede. Non ci posso sempre essere io a farti dei massaggi. Sei tu che devi prevenire. Prevenire anziché curare, ok? Mi darai ascolto la prossima volta. Mi alzo un po', perché sennò non riesco ad arrivare in quel punto. Qui. Cosa devo fare con te? Sto passando all'altra spalla, ok? Dimmi se ti faccia male. Allora, per adesso, dato che l'altra spalla è un pochino peggio, niente di preoccupante. Per adesso ti faccio un massaggio perché non abbiamo veramente tempo. Perché tra pochino sul gerio, senza indugi, devi andare a fargli la doccia e devi fare quell'azione perché ci aspetta l'allenamento. Sennò il sensei si arrabbia. Ma poi, stasera, se vuoi, preparo un po' d'olio, un po' di olio, un po' di qualcosa, delle creme, perché il massaggio verrà meglio farlo. Ecco, sarebbe efficace, perché hai seriamente tutta la parte delle spalle molto tesa. Vediamo un po'. La parte del collo ti fa male pure? No? Ok, quello è un bene. Quindi non hai dorsi collo o nulla, ok? Ok, ok. Va bene, dai. Allora, cos'altro? Fammi vedere se senti caldo o hai la febbre. Fammi controllare se scotti. No, sei un po' caldato ma non hai la febbre, no? Va bene. Allora, devo alzare o no? Mancano dieci minuti? Sì. Ah, hai una piccola ferita qui. Eh sì, qua vicino al gomito. Come te la sei fatta? Ho capito. Dovevi medicarla? Sì, dovevi fartela medicare. Io ieri non ero con te negli allenamenti, non lo potevo sapere. Se non badi tu a te stesso. Chi se no? Vado a prendere dei geroti, ok? Prendo anche un pochino, prendo una carta. Allora, mettiamola qui. E la sto passando bene tutta sulla parte del braccio. No, non mi ero completamente accorta perché avevi le braccia sotto alle coperte, quindi... Ok. Così dovrebbe andare bene. Almeno l'hai medicata. Perlomeno quello l'hai fatto, dai. Non sei poi così malazzo quando ti impegni. Perlomeno che hai fatto le cose a metà. Lei mi è medicata ma non l'hai... non l'hai avvolta con della garza. Meno male che ci sono gli adeggi. Ok. Fa male? Hai guardato? Se la tocchi? Fa male? No? Ok. Questo è un bene, meno male. Vuol dire che la ferita è abbastanza rimarginata. Sì, infatti sto cominciando... stava cominciando a fare la crosta. Però dato che non era perfettamente tutta rimarginata è sempre meglio mettere le carte perché sennò magari potrebbe fare infezioni, no? Per quello l'ho messa, anche se in realtà andava messa prima. Comunque dai, non hai più scuse. Va bene. Allora... Quindi, hai deciso cosa mangerai per colazione? Del ramen. Scontato. Come fai a mangiarlo ogni mattina? Anzi ogni mattina, mangi mattina, pranzo, cena sempre ramen. Sì, lo so che è buono, però... Non puoi mangiare solo ramen. Sì, è vero. È un piatto nutriente, ha tante cose. Tanti ingredienti. Ma l'importante è che la fame non ti manca. Ma è come? Direi che hai sempre troppa fame. mangi il giusto in base alle calorie che sciupi. È vero. Va bene. Dai. Allora, io vado di lì. Devo sistemare alcune cose che mi servono per l'allenamento. perché appunto io ho già fatto colazione e mi sono già lavata. Devo fare soltanto le ultime cosine. Quindi ti abbandono un secondino. E appena finisco, voglio che tu già sia minimo o a fare colazione o a lavarti, ok? Se non ti vedo lì, mi arrabbio. E non vuoi farmi arrabbiare tu, giusto? No. Ok. Dai. Ci vediamo più tardi allora. A dopo, all'allenamento. Va bene. A dopo. A dopo. A dopo.